Grazie a tutti. Ma perché? Io non nasco come un progettista, meccanico, elettronico che sia. Nasco come Lean Thinker e Black Belt, quindi ottimizzazione dei processi, della qualità del nostro output, eccetera. Nell'arco degli anni mi sono trovato spesso e volentieri a dover migliorare un processo quando era troppo tardi. Dove arrivavo in un momento dove spesso e volentieri con le persone si esclamava cavoli se ci avessimo pensato prima, cavoli se ci avessimo messo le mani prima. Il discorso è che quando implementi Lean Six Sigma, ovviamente ci sono tantissimi margini di miglioramento verso l'eccellenza, ne abbiamo visti due casi aziendali più quello di Festo. Il concetto è che però la domanda è perché non metterci le mani in maniera preventiva? Dove hai da un lato più gradi di libertà? Puoi cambiare di più, i giochi non sono ancora fatti. E il costo del cambiamento è molto minore. Pensate all'esempio tipico di efficientamento di un assemblaggio, andando proprio nello specifico del manufacturing. Ovviamente tantissimi risultati con visual management, soluzioni a prova d'errore, poca ioke, eccetera, eccetera, eccetera. Arrivato a un certo punto però alcune inefficienze dell'assemblaggio sono dovute al design del gruppo stesso. E allora perché l'industrializzazione deve essere a posteriori e non può partire a priori, una pre-industrializzazione quando il prodotto è rappresentato ancora da un 3D, un solid edge, per dire. E quindi quando tu trovi un problema, una regola base per il miglioramento è chiedersi cinque volte perché. Al quinto perché sono uscito dal reparto e sono entrato in ufficio tecnico, in progettazione, nello sviluppo. Sviluppo di un nuovo prodotto e lo sviluppo del suo processo produttivo per poi passare all'ottimizzazione dello stesso. Oppure sviluppo di un nuovo processo. Un nuovo processo produttivo o un nuovo processo di erogazione di un servizio. Quindi il discorso è ben sintetizzato secondo me da un suggerimento di Phil Crosby, un cosiddetto quality guru, in cui si diceva sì, la produzione è importantissima ma spesso bisogna guardare all'altrove, dove praticamente anche è un caso dove si lavora non con materiali, macchine, ma dove le persone hanno in mano una matita e un telefono. Eh sì. Quello che volevo dire è la risposta per fare Lean Six Sigma preventivo. Nella parte Six Sigma si chiama Design for Six Sigma, quindi nel mondo Six Sigma c'è la risposta a questo approccio proattivo, altrettanto c'è nel mondo Lean, si chiama Lean Prod Development. Anche in questo caso il suggerimento è capire chi, quale metodo mi dà cosa e perché non ibridarli tra di loro, ma soprattutto perché non adattarli al mio processo di sviluppo prodotto che già ho, secondo la logica della personalizzazione. Questo grafico semplicemente ti dice, è vero che il 70% dei costi di ciclo di vita del prodotto, pardon, la maggior parte dei costi di ciclo di vita del prodotto avviene sotto forma di materiali, manodopera e spese generali e poca parte è la quota parte di quanto tu impieghi sborsi in fase di sviluppo prodotto. Però questa fase che ti costa il 5% getta un'ombra molto grande, nel senso che lì dentro il 70% dei costi futuri, che ancora non hai sborsato, sono già fatti. Il discorso che è lì, che una volta che hai determinato il design dell'assemblato, ne hai determinato l'assemblabilità e quindi i costi di manodopera, nell'esempio manufacturing. Quindi il concetto è fare Lean 6e, ma con un approccio preventivo, addirittura proattivo. Cioè in fase di progettazione, quando vi dicevo ho più margini e meno costi, invece più mi allontano in senso temporale, tanto più mi avvicino al cliente, tanto più migliorare, che significa comunque modificare, il costo della modifica cresce secondo la tipica regola del 1-10-100-1000. Quindi unendo l'approccio Lean 6e a posteriori e a priori, quindi 6e e design for 6e, ma si presidiano i due aspetti dell'eccellenza, l'eccellenza del processo, efficienza, e la massima performance di efficacia. Perché, per esempio, nel Design for Six Sigma, una fase iniziale di sviluppo prodotto è dedicata all'analisi dei requisiti. Prima di parlare di efficienza del processo, chiarire bene cosa vuole il cliente, in modo da poter progettare un servizio, un prodotto, che risponda esattamente a ciò che mi chiede il cliente, con le funzionalità e le qualità né basse né troppo alte, perché l'over quality costa e l'under quality mi allontana il cliente, con le tempistiche soprattutto nel manufacturing, è chiaro nelle aziende di servizio, con un grosso focus sul servizio. Monitorando sempre la questione prezzo, che dal punto di vista dell'azienda è costo, ma nell'accezione moderna di prezzo meno margine uguale costo. Quindi è l'unica variabile effettivamente nella nostra mano e quindi il costo non viene verificato, ma si parte da un costo target di quel mio prodotto e si cerca dalle primissime fasi di progettare un prodotto che sia sia efficace, ma è coerente con un costo target che è dato dal prezzo di vendita, meno il margine desiderato sui volumi previsti. In sintesi, passare da qualità testata, e se non sufficiente, migliorarla, ha una qualità creata a monte, dove abbiamo detto che abbiamo più margine di manovra. Nel mondo Six Sigma si parla di Six Sigma e Design for Six Sigma. Quello che abbiamo visto nei casi aziendali segue un flusso logico che si chiama appunto D-Mike. Definisci misura. Sulla base di questo hai creato le condizioni per analizzare quali sono le cause e quali no, quindi migliora. Verificato il miglioramento, tieni sotto controllo, non solo monitora, ma robustisci nel tempo e sostieni nel tempo. Quando invece ti muovi all'indietro, proviamo a muoverci all'indietro dal punto zero, sviluppo di un nuovo prodotto e del suo processo produttivo o di erogazione. Sviluppo di un nuovo processo e quindi cosa voglio erogare, come voglio erogarlo. Questo si fa attraverso un altro approccio che è sintetizzato dall'approccio Edov. Identify innanzitutto qual è la domanda a cui vuoi rispondere, il bisogno, i requisiti, per il quale il tuo prodotto sarà la soluzione, la soddisfazione. Poi design, progetta l'architettura generale di quello che vuoi erogare o produrre nel caso di un prodotto. Optimize significa andare dentro, scomporre un prodotto complesso nelle sue sottoparti, un processo, un servizio complesso nelle sue sottoparti e poi pian piano far passare questa veicolare e governare il passaggio dall'ufficio sviluppo nuovo prodotto all'industrializzazione in ultima istanza alla verifica della preserie, quindi Verify Edov. Nel momento in cui io volessi progettare un nuovo processo, si segue un approccio molto simile all'Edov, ma specifico quando non c'è il prodotto fisico, che è sintetizzato nell'approccio The MAD. Recentemente parlavo con un mio collega che si occupa di progettazione di supply chain e allineandosi in una delle giornate di allineamento reciproco che sempre facciamo, disse, ma lo sai che questo Edov qualcosa di simile lo approccio anch'io quando sviluppo una nuova supply chain ex novo. e quindi a posteriori miglioriamo Cold Mike, a priori progettiamo con Edov o Cold MAD. Caratteristiche principali, ora non vado nel dettaglio, ma che cosa caratterizza questi approcci? Primo, un approccio concurrent, multidisciplinare. Non è una serialità di io progetto, tu industrializzi, tu produci, ma queste analisi diciamo multidisciplinari vengono fatte dal momento zero al momento uno fino alla fine di tutto il processo di sviluppo un nuovo prodotto. Per anticipare i vincoli, quindi cosa succede? Sembra di partire in ritardo, ma quanto tempo ci mettiamo per sviluppare questo nuovo prodotto? Il discorso è investire un po' di tempo prima con un carico frontale significa più ore uome all'inizio, ma fondamentalmente per finire veramente in tempo e al momento del rilascio piccoli aggiustamenti. La qualità è già a Six Sigma, quindi con quella qualità di poche parti per milione e non va recuperata. Parto già design for partire con una qualità a livello Six Sigma. Da qui viene anche il nome design for una qualità a Six Sigma. Cercando quindi di investire un po' di tempo in più nella pianificazione per poi andare più velocemente sia nella progettazione del servizio del prodotto e soprattutto poi con minore modifiche recuperando fondamentalmente tempo e soldi. Quindi per quel che riguarda le esigenze che si possono risolvere attraverso che si possono soddisfare un'azienda attraverso il design for Six Sigma sono innanzitutto prendere un processo transazionale che è quello dello sviluppo di un nuovo prodotto e migliorarne le performance per esempio il time to market pianificare il costo del prodotto e non doverlo verificare quando già ho il prototipo la preserie ma trattare l'elemento costo man mano e non a posteriore attraverso il design to cost tradurre passatemi il termine la lingua clientese nella lingua progettese quindi tradurre i requisiti cliente in specifiche misurabili trasferibili in un prodotto in un servizio eccetera questo questo è soprattutto sottolineato a questo punto da cercare di sviluppare un approccio sistematico se volete diciamo trasversale olistico allo sviluppo di un nuovo prodotto guardare al sistema e non alle singole parti l'approccio al miglioramento abbiamo detto preventivo e questo suggerimento di Alessandro il discorso è creare un approccio multidisciplinare di sinergia tra le funzioni aziendali quindi di frizione costruttiva e non di scontro fine a se stesso se non distruttivo quanto peggio come ogni metodologia il design for six sigma così come altre metodologie tipiche di uno sviluppo di un nuovo prodotto sono lì a disposizione per essere studiate capite fino in fondo andare ai principi e non agli strumenti e il motto che vi suggeriamo è di adattare non di adottare soprattutto la parte degli strumenti quello che è importante gli strumenti lo strumento degli strumenti è l'utilizzo e la selezione e poi l'utilizzo degli strumenti stessi quindi a partire da che cosa non attraverso la rivoluzione del processo attuale ma sulla base del processo attuale diffondere le best practice attaccare le debolezze e sfruttare quello che ci piace e bene si adatta dei metodi e strumenti nuovi che design for six sigma e l'impro development ti mettono a disposizione qui trovate un'idea di quello che è il design for six sigma attraverso l'approccio Edov completo in estrema sintesi è la logica data da il quality function deployment completo questa serie di matrici che vanno dalla voice of the customer i requisiti a metriche di processo il design for six sigma va su una o più o due tre metriche di processo che non mi soddisfano e le mette a posto invece in questo caso trasformi voglio in il prodotto fa il processo fa i pezzi le parti del prodotto e le sue funzioni cosa fa il prodotto quindi passo da cosa vuole il cliente a come lo misuro quindi le metriche di qualità guidano le funzionalità del prodotto le funzionalità del prodotto guidano la progettazione fisica del prodotto la fisicità del prodotto guida i parametri di processo input e output con tutta una serie di dettagli c'è pardon di strumenti specifici che sono lì a disposizione non sono mandatori sono disponibili in queste fasi c'è un approccio da un lato organizzativo gestionale dall'altro lato anche di statistica dove molti strumenti statistici vengono dal Six Sigma altri se ne aggiungono per chi conosce per esempio il design of experiments si amplia il concetto attraverso l'elemento del robust design il concetto è il prodotto non solo deve funzionare ma deve funzionare costantemente in diverse contesti ambientali e quindi per questo per esempio su un servizio dicevo anche il servizio deve essere robusto perché lo devo progettare talmente bene che anche se intervengono dei elementi non controllabili nel nostro caso è il cliente stesso il servizio è robusto a questo rumore a questo disturbo che dà l'ambiente in cui il prodotto è in astrazione il processo si va a inserire per quel che riguarda invece passiamo a quell'approccio lean sullo sviluppo nuovo prodotto in generale diciamo è un giano bifronte lo potete vedere come due facce della stessa medaglia da un lato è prendi un processo transazionale e applica i principi della lean che abbiamo visto prima adattando dall'altro lato la Toyota e quindi il lean product development sviluppa un nuovo prodotto con delle modalità peculiari che sono di tipo organizzativo capo progetto che però guarda al sistema e non al dettaglio con uno spirito imprenditoriale questo significa quel ESD dall'altro lato ci sono degli strumenti che ti permettono sembra paradossale invece di costruire poi testare ma costruire avendo già pretestato attraverso degli strumenti che si chiamano curve di trade off che cos'è cosa rappresentano le curve di trade off non tanto lo strumento ma il significato forte è di non dover ogni volta risolvere lo stesso problema se io metto a frutto la conoscenza degli sviluppi precedenti posso arrivare a costruire delle soluzioni sì diverse ma parzialmente pretestate perché sfruttano la conoscenza del prodotto e del processo precedente è una delle principali perdite muda spreco di talento è la conoscenza dello sviluppo di un nuovo prodotto o processo poi bisogna adattare la logica del pool di attivare un processo a domanda nei servizi non è adattabile nella maniera uguale attraverso soluzioni tipo kanban o supermarket non sempre ma il concetto è di avere un avanzamento sincrono delle attività e delle funzioni quindi questo viene fatto attraverso applicazioni specifiche alla pianificazione e al monitoraggio di progetti complessi del concetto di visual quindi visual management applicato al planning visible planning dove alcuni esempi sono appunto il visible planning che attraverso il barashi la parte di visible planning la pianificazione del chi fa cosa ma soprattutto in maniera aggiornata in modo tale che le informazioni siano almeno quelle di cui abbiamo necessità di averne conoscenza tutti in tempo reale siano disponibili e in modo da ridurre quelle telefonate email e riunioni ridondanti lavorando in maniera frammentata e complessa le informazioni sono lì su un tabellone snello fatto fondamentalmente di tabelloni matite e posti quest'altro esempio è invece un approccio di visible planning in particolar modo di agile project management mentre questi strumenti vanno a intervenire sulla pianificazione di un progetto trasversare alle funzioni questo invece va in verticale sulle singole funzioni che partecipano al progetto stesso per quel che riguarda l'approccio allo sviluppo nuovo prodotto o nuovo processo che sia o nuovo servizio che sia il concetto è che la maggior parte o al meglio alcune aziende seguono il point based serial engineering che significa serial pardon point based cominciamo a definire una soluzione subito e portiamocela avanti in maniera serial prima il marketing poi tutto lo styling poi tutto il system eccetera eccetera questa sembra essere la soluzione più semplice e intuitiva il problema è che avendo preso delle decisioni così di dettaglio quando i requisiti non sono così chiari siamo in una fase ancora confusa un po' fumosa di quello che vuole il cliente delle fattibilità dell'acquistabilità dei materiali eccetera andare nel dettaglio in maniera controintuitiva è peggiorativo perché poi quello che nasce sono dei ricircoli all'indietro delle attività allora il concetto è quantomeno passare a un approccio multidisciplinare anche se definito una soluzione subito ma almeno guardiamola guardiamola nella fattibilità dal punto di vista delle altre funzioni aziendali che verranno coinvolte in tutte le fasi in ultima istanza questo approccio questa figura effettivamente poco intuitiva perché il set based concurrent engineering effettivamente è controintuitivo ma paradossalmente è migliorativo nei fatti perché la pragmaticità della Toyota diceva guardate che invece di avere un approccio seriale delle funzioni è meglio collaborare tutti fin da subito a fare delle analisi di prefattibilità multidisciplinarità con current dall'altro lato è un'illusione il fatto di prendere delle decisioni di massimo dettaglio da subito perché ci siamo muovendo in un contesto ancora fumoso e allora c'è un modo set based non point based che ci permette di gestire l'aumento di definizione dei requisiti di definizione delle fattibilità che si vanno a aumentare con l'avanzare della storia del progetto quindi il concetto è non prendere decisioni per esempio di quote specifiche numeriche ma muoversi per esempio per range per poi andare a definire la quota numerica il valore specifico successivamente per approfondimenti immagino che questa parte sia non esattamente chiara ma il messaggio che volevo lasciarvi era semplicemente che rispetto a questo modo ma anche a quest'altro modo un altro modo per gestire la indefinizione fisiologica dello sviluppo di un nuovo prodotto quindi sottolineo la parola nuovo nuovo quindi indefinito il modo di gestire in maniera efficiente la indefinizione del prodotto c'è in conclusione in maniera estremamente sintetica unire e sfruttare il design for six sigma e l'impro development significa prevenire invece che curare di giornale